Il gruppo consigliere della base precisa in una nota la scelta di non partecipare ieri al Consiglio Comunale di Nuoro. Solo chi è in mala fede o capace di una lettura superficiale della realtà, si legge nella nota, può ricondurre la mancata presenza del gruppo consigliere della base a una bieca questione di spartizione dei posti. È andato in controverso che il nostro movimento ad oggi, pur essendo la seconda forza politica della coalizione, ha sempre tenuto fede agli accordi elettorali e non ha mai utilizzato e mai utilizzerà la clava delle assenze per rivendicare posti di potere. Non è nel suo DNA. Il punto è un altro. Giunti a metà mandato e soprattutto dopo il recente grido di dolore del sindaco Andrea Sud, riferito alla spaventosa situazione di Bittoria, ci si aspettava da un lato un segnale di ricompattamento all'interno della maggioranza perché il fronte comune venisse rafforzato e dall'altro un gesto di chiarezza nei confronti dell'intera comunità nuorese. Invece, davanti alla sostanziale indifferenza della Regione e del Governo, prosegue la nota, ci si è accontentati di qualche pacca sulla spalla e della solidarietà strumentale di alcuni esponenti politici locali. Di più si è proposto un ingresso nella Giunta Comunale che, lungi dall'aggredire quel problema, ha il sapore di una mossa compiuta solo per calmare i mal di pancia interna e una forza politica. Ci si aspettava, prosegue la nota, un esame severo sull'azione di Governo cittadino svolta sinora e l'indicazione dei punti programmatici da sviluppare da qui alla fine del mandato. La base è anche critica sul risultato della verifica che ha determinato, scrive, una maggioranza dai confini ancora incerti, ammicamenti più o meno velati con qualche esponente all'opposizione e una serie di sottintesi. Vengono inoltre premiati coloro che fanno la voce grossa e invece mortificati coloro che da tre anni, con passione, impegno e silenzio, operano per onorare il mandato ricevuto dai cittadini. Non ci nascondiamo che il momento sia complicato e che il Sindaco e la Giunta stiano compiendo sforzi sovrammani davanti a difficoltà, molte delle quali, se non tutte, arrivano dal passato. Ma è proprio in queste situazioni che la condivisione è decisiva per il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo dati. Nessuno, conclude la nota, può pensare di bastare a se stesso.